Ciao Carlo, buongiorno. Ciao, buongiorno a te. Allora Carlo, seconda volta che sei qui con noi proprio per parlare di rugby, ma in questo caso la Coppa del Mondo. Beh, ti ringrazio di pensare a me ogni tanto e di coinvolgermi a parlare di quello che è sempre stata la mia passione, insomma la palla ovale, di parlare di qualcosa anche più vicina alla componente del gioco, insomma. Assolutamente, assolutamente, tu sei uno che se ne intende perché ti sei fatto quattro mondiali, sei uno dei pochi, cioè non siete in tanti di aver fatto quattro mondiali. Non lo so, penso di no, ma insomma, però conta relativamente il termine numerico in rapporto a quanti siamo o quanti non siamo. Quello che mi è rimasto di ognuno dei quattro mondiali è quella che è la cosa che secondo me è più importante, il piacere di averlo fatto, di averlo condiviso con i miei compagni e tutti i sacrifici che è stato necessario fare per raggiungere questo risultato. Perché i mondiali e le partite poi alla fine, come vedi, purtroppo anche quest'anno si bruciano in poco tempo la parte giocata, ma è tutto quello che viene fatto prima per arrivare al mondiale che è molto intenso, molto difficile, molto impegnativo, sia dal punto di vista mentale che fisico. Quindi una volta che tu riesci a raggiungere quell'obiettivo è una grande soddisfazione sotto questo profilo. Ecco, senti, allora tu ti sei fatto, mondiale 91 in Inghilterra, 95 in Sudafrica, 99 in Galles e 2003 in Australia, dove peraltro l'anno prossimo si giocherà di nuovo in Australia, ma di questo ne parliamo dopo. Senti, qual è l'approccio, dopo io vorrei che tu ci parlassi di qual è l'approccio dell'atleta nei confronti del mondiale, se il primo ma oltretutto nel durante, cioè cos'è lo stato d'animo? Allora, io ti posso parlare ovviamente di quella che è stata la mia esperienza, nei quattro che ho vissuto direttamente, poi ho avuto la possibilità di vivermi anche tutti gli altri, anche se in maniera diversa, con ruoli diversi, team manager, quindi più intensamente nel 2007, e dopo 2011-2015 come direttore dell'alto livello e 2019 invece come direttore commerciale anche nel 2023, per cui... Quindi quanti ne hai fatti in tutti? Io tutti li ho fatti, tranne 87, li ho fatti tutti. Li ho fatti tutti. In un modo o nell'altro li ho fatti tutti, quindi questo, diciamo, come atleta si evolve con l'evoluzione della persona. Ah, anche certo. Nel mondiale del 1991 eravamo un gruppo di ragazzotti che si affacciavano al mondo, ecco. Devo dirti la verità, se vogliamo fare un'analogia con i tempi attuali, ho rivisto lo spirito e l'animo del 91 nel Portogallo del 2023. Cioè era un po' la stessa tipologia, c'è questo entusiasmo di scoprire delle cose completamente nuove, questo piacere comunque di giocare e di, secondo me, anche di divertirsi nel gioco e fuori dal gioco. Quindi è un po' un'immagine, tra virgolette, della purezza di un gruppo giovane che si affaccia ad un palcoscenico che fino all'ora non era, a cui non era ammesso e non conosceva e che inizia ad affrontarlo in un certo modo. Quindi per certi aspetti il 91 mi ha ricordato, diciamo il Portogallo del 2023 mi ha ricordato alcuni episodi, alcuni stati d'animo presunti almeno, perché li ho visti solo per televisione giocare, ma di quello che è successo nel 91. Comunque anche la nostra di Nazionale Gli Azzurri è un gruppo molto giovane, quindi presumo che potesse essere un attimo equiparato a quello che era quello del 91 vostro. Ma i tempi sono completamente diversi, non si può fare un paragone, il rugby del 91 è completamente diverso a quello del 2023, i giovani del 91 sono completamente diversi dai giovani del 2023, è tutta un'altra cosa. Le pressioni anche, le aspettative, perché non dobbiamo mai dimenticare tutto questo aspetto che ha un'incidenza maggiore, sicuramente. Per cui non mi sento di fare un raffronto tra i ragazzi del 91, come dire, i ragazzi del 99 sono sicuramente molto più importanti per quello che hanno fatto rispetto a noi, al livello del 91, ma sono due mondi completamente differenti. Non era proprio come fattore generazionale, cioè di età, giovani voi nel 91, giovani loro nel 2023? Era un gruppo, l'Ovaltura era un gruppo molto giovane, inesperto, soprattutto giovane alla ribalta internazionale, cioè di questo era la gioventù principale, perché poi nel gruppo avevamo qualche persona che aveva qualche età, insomma Giancarlo Pivetta aveva i suoi anni, Sandro Bottacchiari che esordisce contro gli All Blacks all'Eister nel 91, aveva 36 anni, quindi c'era anche una, anche se era la sua prima partita, aveva una certa esperienza di vita, insomma, dopo di che c'erano dei ragazzi giovani, io e Baccari in primis come i più giovani, Baccari prima aveva un anno meno di me ed io come i più giovani e poi tutta una serie di altri ragazzi che... Ma anche Troncon, credo che sia tuo coetaneo? No, Troncon è un 73 o 74, se non rivedi, 73 mi pare, ma lui era, lui non c'era nel 91, lui è entrato nel 95. Nel 95, sì, è entrato nel 95. No, nel 91 c'era Ivan Francescato, c'era Francesco Pietro Santi, se non ricordo male, a 9, quindi erano loro due i due mediani mischi. Senti, abbiamo visto un mondiale, allora intanto ti è piaciuto il mondiale? Ma il mondiale, direi, come evento in generale è stato un evento eccezionale, ha avuto un seguito di pubblico, di audience televisiva, di interessi mediatici e di sponsor incredibile. È stato il più grande evento di sempre nel mondo del rugby, sicuramente. Dal punto di vista del gioco ci sono viste delle bellissime partite, insomma, i quarti in finale di Irlanda, di Nuova Geranda e di Francia, Sudafrica, sono due partite veramente incredibili dal punto di vista dell'intensità, della qualità del gioco, della determinazione, di tutte le varie componenti che il nostro sport, che lo sport in generale possa avere, sono state incredibilmente esaltate in queste due partite. Per cui direi di sì, e finora è stato un bellissimo mondiale, che per certi aspetti, se volevamo dare la cittadina sulla torta, una finale Francia-Irlanda, secondo me sarebbe stata l'epilogo più bello, anche per le due comunità, quella francese e quella irlandese. La comunità irlandese si è trasferita in Francia al seguito della squadra ed era veramente... L'hanno giocato prettamente a Parigi e era stupendo l'atmosfera che si respirava, assolutamente. Per cui anche quello mancherà un po' per la finale, questo tipo di partecipazione di pubblico, ma le due squadre che ci vanno sono sicuramente due squadre fantastiche, anche loro. Ma il fatto che ci siano stati i non sorteggi, cioè il deciso che doveva partecipare nei vari gironi, se noi fossimo finiti per esempio con l'Argentina, non dico che saremmo arrivati dove è arrivata l'Argentina, però qualche chance in più l'avremmo avuta rispetto a incontrare Francia e Old Blacks. Andiamo. Ma questo sicuramente direi di sì, almeno sulla carta direi assolutamente di sì. Diciamo che il tema non è che non sia stato fatto, il sorteggio è stato fatto tenendo conto del ranking del mondiale precedente, cioè quindi hanno fatto le prime quattro, poi hanno estratto le seconde quattro, poi le terze quattro. Per cui in base a quello che era successo nel 2019, il Giappone che era arrivato nelle prime otto è stato scelto nel secondo giro di sorte, invece noi la Scozia, che è arrivato tra il nonno e il dodicesimo, è stato selezionato come terzo e quindi si è trovati a dei gironi che erano abbastanza scombinati in rapporto a quello che era il valore attuale del rugby internazionale un anno prima del mondiale. Quindi credo che questo l'abbiano, purtroppo è stata una cosa che sia un errore di struttura del sorteggio che andrebbe andare risolto per la reddizione del 2027. Sì, infatti dove ci saranno 24 squadre, abbiamo anticipato un attimo l'argomento, dove ci saranno 24 squadre, si giocherà dal 1 ottobre al 13 novembre, ci saranno 6 pool da 4 squadre e si passerà da una durata di 7 settimane a 6 settimane proprio perché sarà un po' più concentrato. Nonostante questo i turni di riposo saranno rispettati. Certo, io trovo che sia, in un'ottica di rendere lo sport, serve più globale, trovo che sia una scelta giusta. Oggi se noi andiamo a vedere le prime 24-25 squadre nel ranking internazionale, alla fine, oltre alle 20 che hanno participato al mondiale, se noi consideriamo Canada, Stati Uniti ad esempio, e la Spagna che è stata esclusa per motivi più formali che sostanziali. Arriviamo già a 23, dopodiché forse ne manca una ancora come squadra che sia in grado di affrontare, quantomeno anche sotto il profilo dell'incolumità fisica, un torneo di questo genere. Però io credo che sia una scelta giusta quella di fare questi sei gironi, articando anche il tema del... anche di un passaggio poi... secondo me il quarto di finale, gli ottavi di finale potrebbe essere una... adesso non ho visto il sorteggio, non ho visto il comunicato che è uscito oggi, devo dirti la verità ancora, e quindi non so se prevedano già anche la struttura della competizione all'interno del comunicato, perché uno dei temi di cui si era parlato era appunto quello di fare un ottavo di finale, quindi le migliori due più le tre migliori... le tre migliori, diciamo, sono... no, le prime due sono sei più dodici, più le quattro squadre, le quattro migliori terze, accedono agli ottavi di finale knock-out e quindi diventa anche... diciamo, giochi sempre quattro partite, fondamentalmente, le prime sedici giocano quattro partite, però dai un'opportunità in più a giocare partite di un certo livello e potendo anche poi passare a ambire e a passare i quarti di finale, insomma. Ma secondo te ha un senso tutto ciò nel senso? Già in questo mondiale si è visto che il gap tra le squadre di prima, seconda e terza fascia è stato devastante, nel senso che comunque... Allora, è stato devastante in alcuni ambiti... ...dove magari li fai prendere un sacco di mazzate, gli spacchi su tutti e vanno via lasciando nessun guadagno per loro stessi e nessuna impronta in quello che è stato il mondiale. Beh, allora... L'esperienza è legativa, è come se tu porti a giocare i ragazzini della 16 contro la prima squadra del Benettono. Allora, questo allargamento del 24 deve anche essere supportato da investimenti e da un lavoro di crescita e di ampliamento delle squadre, diciamo, più vicine ai posti bassi del ranking, sicuramente. Però allo stesso tempo, vediamo l'esempio del Portogallo. È vero che ci sono state alcune squadre che praticamente si è fatto male, male e non si è fatto male a nessuno, nel senso che questo dobbiamo dirlo, che alla fine si fa delle partite con dei punteggi sicuramente difficili, però abbiamo visto anche delle performance di grande qualità e comunque il beneficio di vivere un'esperienza come questa, di vivere un mondiale, di avere comunque la possibilità di prepararsi e di finalizzare il proprio lavoro ad un obiettivo, io credo che sia assolutamente positivo, anche se poi perdi tutte e quattro le partite o tutte e tre le partite dal punto di vista generale. Per cui io la vedo solo in termini positivi come concetto. Sicuramente, sicuramente, Bumon punta moltissimo sul fatto che ci sarà un giro di business nettamente superiore a quello del 2023 che è già stato, come dicevi tu prima, quello dove sicuramente si è totalizzato molto di più. Chiaro che con 24 squadre, fischi, hai voglia se aumenta il giro d'affari? Ma guarda, io ti dico che sull'aumento rispetto a quello che sono state le revenue che la Francia del 2023 ha fatto e farà, io credo che non riusciremo neanche ad avvicinarci al Mondiale del 2027, a quello che è il generato finanziario di questa Coppa del Mondo. Per cui l'allargamento del 24 è sì una... Perché questo? Perché eravamo in Francia? Perché la Francia ha un valore intrisseco di movimento del rugby francese che è impressionante, cioè gli sponsor che ci sono e che investono nel rugby francese in Francia, il mercato dei redditi televisivi che c'è in Francia, il livello del pubblico che c'è in Francia, perché in Francia tu hai avuto tutte le partite vicine al sold out, se non sold out, tutte le partite, quindi anche quelle delle squadre minori, in stadi che avevano da 28-30 mila spettatori in su, quindi numeri incredibili. In Francia Italia, Nuova Zelanda ha fatto 6 milioni e mezzo di telespettatori su France 2, per dire come cultura e come livello di mercato che il rugby francese può dare. Il rugby francese è il paese Francia, neanche l'Inghilterra riesce, riesce a tenere questi livelli. Per cui i due paesi più generatori di revenue sono Inghilterra e Francia in questo momento e quindi allontanandosi da quelli è difficile che si riesca ad avere lo stesso risultato. Quindi c'è una Coppa del Mondo 2027 in Australia che sarà sicuramente molto interessante, molto affascinante, ma che stento a credere che possa avvicinarsi finanziariamente a quello che è la revenue, anche per una questione di mercati, di orari, dei calci di inizio delle partite. C'è tutta una serie di considerazioni che devono essere tenute in conto. Per cui la grande sfida poi sarà, per il rugby internazionale e per il World Rugby che l'ha presa, quella di entrare nel mercato statunitense e quindi provare a fare una svolta per quello che tutti ritengono uno dei mercati. Gli unici due mercati in crescita nel mondo dei diritti sportivi in Italia e in Italia nel mondo sono Stati Uniti e India. Quindi questi sono gli unici due mercati che l'India solo per il cricket perché sono fanatici e stanno investendo un sacco. E gli Stati Uniti invece è un mercato crescente molto legato agli sport prettamente statunitensi ma che continua ad avere una crescita e il resto dei mercati è in calo dal punto di vista del valore dei diritti. Per cui l'idea di andare negli Stati Uniti e di cercare di entrare in questo mercato va in questa logica, in questa direzione. Poi quanto questo sarà possibile farlo, quanto questo sarà veramente in grado di essere generato io non lo so, ho qualche dubbio, ce l'ho. Tu che sei un commerciare. No, non è un commerciare, è un mercato difficile, dove ha una stagionalità per ogni sport. Già il calcio ha fatto fatica, adesso è riuscito, ma ancora pur avendo una comunità ispanica molto forte che sta prendendo la dominanza come sport preferito, quello del calcio ha comunque altri tipi di sport che sono molto collegati poi al modello sociale loro che riguarda i collegi e le università e quindi il basket futuro americano in primis e poi c'è baseball e hockey dall'altra parte e più calcio. Quindi riuscire a trovare uno spazio per cui il rugby possa diventare un altro sport di riferimento per il mercato americano richiede un lavoro molto lungo, secondo me. Sì, sì. Tra parentesi, lo dico a te, spoilerò una cosa perché alla fine del mondiale mi sono appassionato alla faccenda economica. Mi sono chiesto chi guadagna dal mondiale e quanto guadagna e come viene diviso tutto e qual è la filiera. Quindi ho un'intervista, anzi due, che farò finito il mondiale, le proporrò, dove effettivamente saranno molto interessanti perché ci sarà più o meno tutto quello che è stato generato come quantitativo anche di danaro, di business e chi ci ha guadagnato. Banalmente in un mondiale ci guadagna anche delivero perché tu stai a casa, è sembra una minchiata ma invece non lo è, tu stai a casa, ordini il delivero e quello genera veramente tanto fatturato. Chi vuole comprasi la televisione perché con l'occasione si vede il mondiale, c'è tutto un giro da fare che gli stessi amici che vengono a casa tua a mangiare e bere generano una fetta di mercato importante e interessante. Ne parleremo poi più avanti. Invece, secondo te, qual è stata la squadra rivelazione o le squadre rivelazioni di questo mondiale? Allora, la squadra rivelazione di questo mondiale, penso di dire il Portogallo come l'ha già accennato prima per lo spirito che ha portato in campo, come primo esempio. Poi non possiamo dire di una rivelazione ma quantomeno una conferma e un compiacimento del livello a cui sono ritornati gli Orbex che sono a mio avviso veramente tornati a giocare ad un livello stratosferico. Sono loro quelli da battere? O è Sudafrica da battere? Sì, Sudafrica è una delle squadre più complicate per cui giocare contro. Idealmente come piacere di vederli giocare, gli Orbex sono sicuramente l'attrattiva principale, questo sicuramente. Ti saresti mai aspettato che l'Inghilterra, dopo che io ho incontrato numerosi tuoi colleghi anche, e gli ho detto ma l'Inghilterra che tutti oramai davano per spacciata, di più di spacciata, e dicevo a tutti ma l'Inghilterra la vedi già tu? Sì, guarda, c'è l'Inghilterra, secondo me non va lontano, non va lontano. Io ho sempre pensato invece che avessero delle risorse per le quali potessero combattere, non mi sono sbagliato perché sono arrivati praticamente lì, perché hanno fatto e hanno imbrigliato in Sudafrica, non li hanno fatti giocare per 70 minuti, poi erano bolliti, evidentemente fisicamente, quelli altri sono venuti fuori grazie anche dei cambi, ma tu cosa ne pensi? Ma sicuramente, guarda, io sono d'accordo sul fatto che l'Inghilterra è arrivata a questo Mondiale non certamente in forma e anche le prime partite che ha fatto non era assolutamente una squadra, diciamo, su cui avrei scommesso, anche se non è opportuno parlare di scommesse come si dice. No, 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 è un momento. No, no, non è una cosa che mi abbia mai emozionato, mi emoziona molto di più comprarmi una bella bottiglia di vino e bermela, per cui va a dire di questo. Ma l'Inghilterra sicuramente non ha dato prova fino alla partita con Sudafrica, sembrava essere veramente un essere un po' indecifrato che è arrivato in semifinale, anche casualmente, insomma, perché la partita con Fiji, infine, poteva andare anche in altro modo, però in semifinale è venuta fuori tutta la cultura, tutta la tradizione, la volontà, la determinazione di un gruppo di manifestare la propria identità e di volersi battere fino alla fine, sono stati eccezionali in quella partita, hanno giocato una partita come si deve, insomma. Ecco, tornando indietro invece, che mentre parliamo dell'Inghilterra mi è venuta in mente anche loro sono entrati male, ma un'altra squadra che è entrata molto male nel mondiale e secondo me ne è uscita meglio, anche se poi l'epilogo finale non è stato così soddisfacente, però è stato il Gallers, il Gallers è arrivato al mondiale con una stagione disastrosa, con un'estate difficile ed è riuscita a ritrovarsi, in poco tempo è riuscita a ritrovarsi, a ritrovare un'identità e a arrivare a giocare, a giocarsi comunque le sue chance poi non ce l'ha fatta, però peccato, è stato sfortunato anche negli infortuni ha avuto e quant'altro, però il Gallers secondo me è una squadra che si è ritrovata in questo mondiale e ha fatto bene. Ma una squadra può arrivare a un mondiale non tanto in forma e durante il mondiale mettersi in forma? Non so se mi sono spiegato. Una squadra che punta alla finale normalmente non è super brillante fin dalla prima partita, quindi tende ad andare a crescere di condizione durante la Coppa del Mondo per arrivare dai quarti alle semifinali ad essere al top. Normalmente sì, però ormai il mondiale è fatto di lunghe preparazioni, di lunghi periodi insieme, di tante partite, tre o quattro di preparazione prima di arrivare alla Coppa del Mondo, per cui la squadra sono già abbastanza pronte fin da subito. Poi è una componente principale importantissima, la fa la parte mentale insomma in questo senso, per cui al di là della preparazione, del lavoro fisico, del lavoro tecnico, delle competenze, poi come abbiamo visto l'Inghilterra, alla fine poi mentalmente è venuta fuori una battaglia, perché comunque al di là di tutti i piani di gioco, di tutte le varie tattiche, il rugby rimane sport di combattimento, sport di trincea e chi più ne ha da dare là può mettere in difficoltà gli avversari. Figi, Samoa e l'altra che adesso mi sfugge, Figi, Samoa e Tonga, si hanno fatto comunque un loro bel campionato, perché tutto sommato... Figi l'ha fatto più che bene, voglio dire. Figi l'ha fatto più che bene, cioè... Poi ecco, loro sono fantastici, hanno dei giocatori che sono espantacolari per potenza e qualità tecniche, velocità, poi possono fare la cosa più bella del mondo come possono improvvisamente fare la cosa più sbagliata e più sciocca, però sono fenomenali dal mio punto di vista, io li ammiro tantissimo e mi piacciono tanto vederli giocare. Samoa e Tonga hanno avuto un po' di possibilità di allenarsi assieme, hanno avuto indietro i migliori giocatori che avevano, qualcuno è stato riciclato, tra virgolette qualche ex internazionale neozelandese o è rientrato, per cui hanno dei... sono nazioni di rugby che hanno una grande tradizione e quindi quando quando possono allenarsi insieme, quando possono giocare, performano bene. Adesso sia Sudafrica che Nuova Zelanda si sono giocati hanno lo stesso tempo di recupero, chi è che vedi più in forma delle due? Da punto di vista fisico, dico. Ma la Nuova Zelanda, ti dico, in queste... la partita che ha fatto per vincere contro l'Irlanda è stata stratosferica, perché l'Irlanda è una squadra incredibile in questo momento, è una squadra fortissima e essere riuscita a battere l'Irlanda vuol dire che la Nuova Zelanda l'ha fatta ancora più... è stata ancora più forte, ma tanto... che è un'ovvietà ovviamente, ma non è scontato, perché battere l'Irlanda in questo momento davvero è una cosa non da poco. Non da poco e farla come l'hanno fatta loro, notevoli, notevoli. Quindi ti dico, dal suo profilo del gioco e della completezza di squadra, ti dico la Nuova Zelanda, però il Sudafrica fisicamente, nell'intensità, è una squadra difficile contro cui giocare, molto difficile, molto difficile. Sono molto fisici tutti e due, eh? Sono molto fisici tutti e due, la Nuova Zelanda è ritornata ad essere anche dominante nella fase statica, cosa che nell'ultimo periodo aveva sofferto. la prima linea adesso è davvero, davvero forte, anche tutti, dai, voglio dire tutti. Poi in ogni secondo possono inventarsi un'azione che ti stravolge la partita, sono eccezionali, davvero. Hanno poi delle individualità pazzesche, da Aaron Smith nei New Blacks, alle ali che ci sono in tutte e due le squadre, a Colby che è una roba spaventosa. No, ma tutte e due le squadre sono fatte da giocatori fortissimi e quindi niente da dire. La Nuova Zelanda esprime ancora un gioco più completo, ecco, dal mio punto di vista, anche dal punto di vista estetico e del piacere di vederli giocare, della naturalezza con cui fanno certe cose che le fanno sembrare di una semplicità incredibile, invece, e lo sono anche semplici, perché non so, però le fanno così bene e con una competenza che, semplice non è facile, attenzione, quindi fare le cose semplici è la cosa più difficile da tante volte. E quindi loro in questo senso, in questo momento, mi hanno impressionato di più. Il Sudafrica è il Sudafrica, è il campione del mondo, è una squadra che ha nella fisicità e nella capacità di rompere il gioco avversario e la sua caratteristica e in una partita unica così può battere chiunque. Quindi se devo dare una percentuale, do 51 a Nuova Zelanda, 49 a Sudafrica, ma lì, insomma, sarà una bella partita. Poi vado a vederla, per cui spero anche di divertirla. Secondo me non vedremo tantemente, però. Non lo so, sarà interessante. Vediamo, sarà sicuramente una di quelle partite che quando le vedi da fuori dici beh, sai che oggi forse, non aver giocato, non è pop così male. Assolutamente. Perché non so quanti, le ossa si rinforzeranno, quelle che non si rompono si rinforzano. Ah bene, sì, tiene da un famoso detto veneto oltretutto questo. Beh. Ma sì, sicuramente le sportellate le vediamo lì. Ah, sicuro. Secondo te, scusami, gli Oblacs utilizzeranno qualche punto debole che è stato messo in luce con l'Inghilterra o faranno la loro partita fottendosene mellamente? Ma loro faranno la loro partita come, ma sicuramente giocheranno tatticamente in base anche all'avversario che hanno di fronte. È sicuro. Ogni cosa che fanno gli Oblacs, al di là di questa capacità di muovere, però vanno sempre ad attaccare le debolezze dell'avversario e sono bravissimi a individuarle e a trovare il gioco che ti porti a mettere in evidenza e a lavorare su questa debolezza. Queste sono le grandi squadre comunque. Ma certo. Anche Sudafrica, insomma, alla fine ha questo tipo di approccio. Contro la Francia comunque è andato a mettere il gioco a piede, nel punto giusto, è andato a fare con la pressione giusta. Cioè ha fatto le cose che dobbiamo fare. Erasmus non è, oltre ad essere un grande comunicatore, è anche uno che, insomma, sa come si gioca a rugby. Insieme a Niebuhr, che è l'allenatore, attenzione. Però sa sicuramente come si gioca a rugby e sa come andare a provocare le difficoltà e a mettere l'avversario, diciamo, che va verso dietro. Insomma, quelle squadre non amano mai a dover girare le spalle e tornare indietro. E quello che loro lo sanno fare. Galtier, secondo te ha sbagliato qualcosa? Quando perdi sicuramente qualcosa sbagli. È difficile da fuori andare a dare dei giudizi in assoluto. Io non posso dire se abbia sbagliato perché lui conosce i suoi giocatori, li ha vissuti da vicino e sapeva le dinamiche. Io da appassionato esterno avevo qualche dubbio sul fatto di far giocare Dupont dall'inizio in quella partita, personalmente. Non tanto sia perché Dupont, insomma, inevitabilmente uno che è stato operato e che ha avuto questo problema, insomma, gioca un po' sulle uova, come si dice. Non è proprio al 100% dentro la partita. E due, perché dai un messaggio a una squadra che comunque si era strutturata, organizzata bene e andava avanti che senza di lui non ce la si può fare. Ecco, questo è un po' il messaggio perché nessun altro giocatore avrebbe avuto questa possibilità se non fosse stato Dupont. È vero, è il più forte al mondo e quindi, per carità, posso capire. Da osservatore esterno dico io così, io forse avrei avuto qualche dubbio su questo ambito. Però dopo lui conosce i suoi giocatori, conosce la sua squadra, sa meglio come vanno le cose e ha fatto quella scelta e quindi darà rispetto al 100%. È stato più forte Sudafrica, appunto, perché nel rugby vince sempre più forte. Vince sempre più forte ed è stato, sì, più forte. Sicuramente si ha vinto e ha avuto più capacità di sfruttare delle occasioni in maniera più precisa. Ecco, poi la Francia nelle ultime occasioni finali ti fa una giocata da una mischia chiusa dentro i suoi 22 che con tre passaggi è già dentro i 40 metri avversari con una facilità, quindi ha una qualità di gioco e di giocatori impressionante. Questa peredre qua, più forte, sì, ha vinto, ha segnato un punto o più dell'altro. Poi più forte o meno forte è difficile da andare a valutare in senso assoluto. Sai, bastava che Farrell facesse un altro drop all'ultimo minuto, hai capito, la squadra più forte era l'Inghilterra nel caso... Oppure, come ho visto che se ne è parlato tanto, fosse stato fischiato diversamente l'ultima mischia e la partita avrebbe preso un'altra piega. Quindi queste qua sono le situazioni che si possono creare bianco o nero, una scelta cosa può capitare e cosa può non capitare, quindi questo è purtroppo. È il bello della palla ovale. È il bello di tutte le cose, perché poi è la vita, insomma. Va bene. Senti Carlo, io ti ringrazio, non ho altro da... C'è, ho avuto un sacco di cose da chiederti, ma la facciamo al prossimo incontro. Al prossimo mondiale, allora, 2027. No, prima, dai, ne facciamo. Volentieri. Ok, grazie mille e buona partita, visto che tu vai, che hai il biglietto. Eh, ho comprato il biglietto sei mesi fa e con altre tre copie, io e mia moglie e altre tre copie di amici, andiamo a vederla finale. In curva. In curva. Perché, vuol dire, 200 euro. Mi ha detto, non va bene. È la curva e andiamo a vederci questa bella finale. Speriamo che sia un bel evento, soprattutto che non ci siano strutture di scatole, visto il momento storico che stiamo vivendo. Eh, sì. Che non è dei migliori. Sì, no, non è dei migliori, però dai, non parliamo di questo, dai, incrociamo le dita. No, speriamo che sia un bellissimo evento sportivo e che questo Mondiale di Francia, che è stato un evento eccezionale, si concluda in maniera altrettanto eccezionale. Ascolta, visto che vai in curva, fai il cartello, ciao Robi, anzi, ciao Bulldog. Eh, non so, non so se, se me lo fanno entrare, prima cosa, e poi il secondo, non so se si veda, perché, insomma, lo Stade France non è proprio quello. Magari tanto inquadrano da vicino e capito, magari per scelto sei tu. Va bene, potrebbe anche essere. Dai, grazie Carlo, alla prossima e buon rugby, buona partita. Grazie, grazie a te. Un abbraccio, ciao. Grazie a te.